Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Miss Mario e questo è il quarto episodio di New Taxi License 3D New York Taxi License scusate Speriamo, questo è il quarto episodio e speriamo sia l'ultimo ma non credo per niente al mondo D'accordo, d'accordo, d'accordo L'ultimo livello è finito non tragicamente ma bene per fortuna, vedi che è l'omino Minecraft, è un omino Minecraft, guardatelo da più vicino Cioè è un omino Minecraft tra un po', speriamo che non mi tamponano mentre faccio vedere sta cosa D'accordo Sono pronto, posso fare tutto, posso sfondare i muri con questo catorcio di Fog 1 perché c'è scritto Fog 1 sulla targa, voi non lo vedete Ma c'è scritto, ma che cosa, vuoi per caso che ti tamponi e ti faccia investire qualcuno? No perché si dà il caso che era rosso e poi dicono a me che faccio le infrazioni in per strada Aspetta, non posso nessuno mentre faccio questa cosa Sì Record Un minuto e 25 secondi e abbiamo già finito il primo livello, incredibile Non ci posso credere D'accordo D'accordo, dove, dove dobbiamo andare? Dalla parte sbagliata dobbiamo andare Ma qua non ce l'ho passato nello scorso Che cosa fa? Ci sono tre auto Nello stesso posto al momento Ma che cosa? Si sono tamponate ragazzi Bene, andiamo di male in peggio No No, no e poi no nella vita mia No, no e poi no Va bene così Se lo sfioro Sì Ho fatto fermare il traffico ma va bene così perché io dovevo parcheggiare al perfezio D'accordo, andiamo Mettiamo in chiaro una cosa Non è facile Non è facile No, non è per niente facile Allora, allora Senti amico Capisco che sei nel struttore ma io ti devo dire una cosa Se mi guardi così tranquillamente poi guardate voi la targa intanto Mi fa uno Io non riesco a concentrarmi se mi guardi così quindi Smettila D'accordo? Ok Bravo Bravo zio Se lo riesco Ce lo Che cosa? 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 Un palo è caduto È caduto un palo ragazzi Non ci posso Allora Vi racconto la storia Io stavo uscendo Da qua È demoniato questa sapida cosa Tra l'altro quello passa il palo come niente fosse Io stavo uscendo dal parcheggio E all'improvviso uno fa cadere il palo Eccolo Arriva questa macchina e dice dove andare in contromano Poi c'è questa Arriva e per fortuna non si scontrano Poi arriva quel tizio tranquillamente Scassa il palo come se niente fosse E continuiamo E poi ci sono anche I passanti che guardano come se fosse una tragedia Ragazzi io questa È una cosa Dove devo andare Speriamo che non sia Eh ecco È un mezzo È un pezzo È un No io non ci No non ci credo Con l'anima viva Non ci credo Tutto con una manovra Se parcheggio con una manovra No No stavo parche Allora Allora Devi spiegarmi una cosa tizio Come ho fatto a fare missione completa con gratulazioni Se c'è scritto void traffic violation Try again Non ci credo Non ci credo Non ci credo Che c'è la radio Che avete da guardare La radio non c'è Quindi la devo fare io la radio Ma è che non c'è un semaforo Se no facevo il casino di dio Cavolo Io avevo giocato una demo una volta Quando ancora non facevo video E l'ho fatto centomila volte Il suo livello Perché a un certo punto tamponavo E poi c'era sempre la sua cosa E facevo sempre il giro Mai una volta che mi ricordassi che non devo andare lì Basta io non ce la faccio più No No che cosa 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 Te lo chiedo gentilmente Cosa Tu questo Ecco bravo zio Ora dobbiamo fare una piccolissima manovra Niente di che Andiamo solo Sperare di non bloccare il traffico Noi lo abbiamo fatto Per strafortuna E no No E no Non ci credo D'accordo Questo pezzo è grande Non ci credo D'accordo D'accordo ragazzi Dove eravamo arrivati Oh sì Questo pezzo lo taglio D'accordo ero Allora Va bene ragazzi Non vi spiego il perché Del taglio Ve lo dirò Con un video gentil Alla fine D'accordo Devo andare a testa D'accordo a testa Scusate Scusate Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace qua sotto Sto restaurando la pagina di facebook Come vi ho detto Nello scorso video Vai ve lo svelo Non può essere più una sorpresa Dovevo dirvelo Non fa niente Intanto un minuto Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace E noi ci rivediamo Un prossimo video Bella ragazzi Ciao